Circa 800 metri dalla linea del traguardo, sempre palista, Paronchelli all'estrema sinistra, Saronni al centro, De Wolf in quarta posizione, ora è Paronchelli al vertice del cuneo, con Paronchelli alla seconda posizione, circa 400 metri, ecco le telecamere tutte, lanciato lo sprint, Paronchelli, scatta Saronni, sempre Saronni ma sta uscendo in Belga, Martens, Martens davanti a Ino e a Saronni, Martens, una volata condotta molto da lontano, troppo lunga e Freddy Martens, che riceve l'abbraccio della moglie, ha pespato tutti, fra i due litiganti, Freddy Martens ha piazzato la botta vincente, per la seconda volta, Freddy Martens è campione del mondo, rivediamo lo sprint, parte lungo Paronchelli, Saronni a ruota, si volta, scatta Saronni, troppo da lontano, ecco Martens con Ino, che si riportano nella scia di Saronni, Saronni ancora al centro, ecco Ino, ecco, esce Martens, ed è Martens che vince, mentre anche Ino sta recuperando, Allora, Martens, poi per il secondo posto, sarà il giugno dell'arrivo, ma ci sembra che sia secondo Saronni, davanti a Ino.